Dovunque vorremmo andare andremo. Una nave è questa in realtà. Non è solo una chiglia con uno scafo e un ponte o delle vele. Sì, la nave è fatta così, ma ciò che una nave è, ciò che la perla nera è in realtà, è libertà. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.